oggi facciamo i piedini di maiale a cuba lo facciamo così è una ricetta molto semplice e vi darà il pieno di collagene guardate quanto è bella ed è veramente morbida guardate un po si scioglie in bocca io l'accompagnerò con del riso bianco perché ha una salsina strepitosa e ovviamente non la posso lasciare perdere quindi vediamo subito come fare questi qui sono i piedini che ho lavato in acqua e aceto e le ho asciugati quindi sono già pronti per la cottura sto usando una pentola a pressione e metto un po di olio stravergine aggiungo del soffritto che sarà peperone cipolla e aglio e faccio cuocere un paio di minuti comincio a mettere i miei piedini la mia pentola era piccolina aggiungo del sale origano del cumino e anche un po di pepe se volete sfumiamo con del vino bianco aggiungo anche un po di polpa di pomodoro può essere da concentrato o polpa finissima e poi del brodo o acqua deve coprire i nostri piedini adesso ho messo il coperchio e facciamo cuocere un'ora a fuoco bassissimo da quando parte il fischio ecco qua il risultato ragazzi guardate quanto è morbida che c'è una salsina pazzesca fatemi sapere se la fate